Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 5 giugno. Su Sicilia TV da mercoledì prossimo parte Io Candidato, la serie di trasmissioni dove gli elettori favaresi avranno modo di conoscere ciascuno dei sette candidati sindaco della città dell'Agnello Pasquale. Dalle ore 20 e 45 in diretta i candidati, ospiti della redazione giornalistica, avranno modo di far conoscere agli elettori il programma e le eventuali soluzioni alle tante problematiche che attanagliano la città di Favara. Ciascun candidato sarà chiamato a rispondere alle domande poste non solo dai giornalisti studio ma anche dagli stessi cittadini che avranno modo di interagire con gli aspiranti amministratori. Come dicevamo il primo appuntamento è per mercoledì 18 maggio in diretta alle ore 20 e 45. Si continua anche nei prossimi due giorni ovvero giovedì 19 e venerdì 20. Le dirette di Io Candidato riprenderanno poi lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 maggio sempre in prima serata dalle ore 20 e 45. In vista del probabile turno di ballottaggio il primo ciclo delle trasmissioni si chiuderà con il confronto in studio tra tutti e sette i candidati sindaco in programma il prossimo 31 maggio. Un lavoro impegnativo quindi per la nostra emittente che porterà i candidati direttamente nelle case di tutti i favoresi che in questo modo potranno avere le idee più chiare sui contenuti di questa campagna elettorale che già si preannuncia infuocata. Le trasmissioni potranno essere seguite anche in diretta streaming sul nostro portale www.siciliatv.org. Nel rispetto della trasparenza e dell'uniformità di trattamento Sicilia TV ha estratto a sorte nella serata di ieri l'ordine di apparizione dei candidati. All'interno dell'urna i bussolotti con i nomi dei sette candidati a sindaco. La prima ad aprire mercoledì sera il ciclo di trasmissioni è la candidata Gabriella Bruccoleri. A seguire giovedì il candidato Gaetano Airò. Venerdì il candidato Antonio Palumbo. Poi pausa per il weekend. Si riprenderà lunedì 23 maggio con ospite in studio la candidata Anna Alba. Martedì 24 maggio ospite Gerlando Nobile. Mercoledì Antonio Valenti. E chiude giovedì 26 maggio il candidato Angelo Messinese. Il sorteggio si è effettuato pubblicamente nel noto locale Caffè Italia di Piazza Cavour. Invitati a partecipare erano tutti i candidati sindaco e o un loro delegato.